Ma io ho cercato di rifarmi esattamente al periodo pensando, immaginando che Mascagni, adesso non voglio fare troppo l'intellettuale per non rovinare tutto, ma Mascagni era legato all'epoca dei macchiaioli, la musica è abbastanza strana, io ovviamente ho tante registrazioni compresa quella del nostro grande, cominciamo con eleganza, dalle signore di Mirella con Luciano, ma opera che si conosceva e si conosce più che altro per il duetto delle ciliegie e l'intermezzo. Però non è solo questo, devo dire che tutte le messe in scena che ho visto nei video, che ho avuto occasione di vedere, erano legate un po' alla didascalia e c'era qualcosa che non funzionava, ci sono delle pagine non troppo allegre. Allora mi sono rifatto quest'idea, lui legato ai macchiaioli, l'epoca è 1874, ho detto ma perché invece che farla in Alsazia non la sposto di 200 chilometri e la faccio in Nord-Normandia? E quindi ho pensato all'impressionismo perché nel 1974 nasce questo termine con la famosa esposizione di Boulevard de Capussin a Parigi e credo ci stia bene, naturalmente la casa che vedete al primo atto e alla fine è presa dalla casa di Monet a Giverny e quindi l'ho ambientata in questa cosa, ma esattamente nel periodo della vicenda. e poi mi sono rifatto per quel che riguarda la parte registica, che io preferisco dire messa in scena perché la regia la fa sempre l'autore della musica, perché mette gli intervalli, perché mette le pause, perché mette queste cose. Quindi ho cercato di dare vita, abbiamo pensato, ho pensato di fare che fossero gli amici di Fritz, a farla combina perché questo uomo finalmente arrivi a sposarsi, questo zitelone ricco sfondato, e in più ho fatto una cosa che credo non sia mai stata fatta nella storia, due cose. Una quella di portare coro, banda, bambini tutti in scena, che normalmente non si porta, e l'altra di ambientarla veramente nel mondo che è, cioè quello ebraico. Quest'opera è stata un'opera molto famosa, specialmente nel ventennio fascista, però possiamo capire che dire che gli ebrei erano gente anche di gran cuore, benefattori, non era forse proprio il caso, ma in realtà è questo, ancora in certi posti della Sicilia o anche in altri paesi, anche fuori dall'Italia, quando si dice sei un Fritz, vuol dire sei un benefattore. Io l'ho voluto ambientare in quello che è la sua natura, cioè il mondo ebraico, il mondo togliendo, ma senza far polemiche politiche con nessuno, togliendo dei tabù e dei pregiudizi che mi pare siano assolutamente inutili. L'anno scorso ricorreva il settantesimo della morte di Mascagni, e quindi un omaggio a Mascagni, fare la cavalleria, questa è fatta e rifatta, fare altre opere che io ho cantato, ad esempio come l'Iris, così forse era un impegno anche economicamente. Perché noi facciamo una scuola, noi dobbiamo pensare che il nostro è un laboratorio per i giovani, quindi abbiamo cercato di fare quest'opera anche perché si rappresenta poco. Mi pare invece che stia avendo un riscontro molto importante, è una cosa che dico sempre, io non faccio il regista, io faccio la messa in scena, cioè mi rifaccio al... Verdi non ha mai usato la parola regia, ma sempre usato la parola mise en scène in francese, e che è quello che si faceva nel passato. La regia è un'altra cosa, la regia è quella che si fa oggi, che viene da questa idea teatrale che poi viene chiamata il regi teatro, che nasce a Berlino, e dove ad esempio anno scorso, soltanto per fare una sottolineatura di Paragon, l'anno scorso la scala si è fatta l'Aida senza il balletto, Verdi l'aveva scritto. Cioè viene usato, come ha detto in un'occasione il maestro Mutti, viene usata l'opera, la musica dell'opera come colonna sonora. Il nostro è un altro obiettivo. Io non faccio regia, dico faccio messa in scena perché io faccio un discorso propedeutico, cioè noi facciamo, io non faccio regia professionalmente, noi dobbiamo dire ai ragazzi come nasce, perché nasce, perché sei questo, perché sei quell'altro, e per me come cantante è una lezione, perché sto imparando molto cose che forse prima avevo sottolineato, non avevo sottolineato, adesso le sottolineo. Le piace misurarsi con questa esperienza nuova? Bellissima, è bellissima perché oltre avere il piacere, il gusto di potere, non dico insegnare che è difficile, non si insegna niente a nessuno, ma si spiega a qualcuno è che io ho la possibilità di imparare io stesso perché approfondisco, ma non partendo da una mia idea, ma partendo dall'idea dell'autore, quindi come cantante, come musicista, forse tra virgolette, cerco di approfondire i perché, i per come, perché c'è quella pausa, perché c'è questa tessitura, perché c'è questa cosa, e questo è molto interessante proprio come cantante, perché è un'esperienza che è ancora superiore al fare le masterclass, queste cose che sono già importanti, ma questa è una masterclass che si completa con la messa in scena, quindi è veramente per me una grandissima esperienza.